Hey, tu! Sì, tu che hai cliccato su questo video! Perché lo hai fatto? No, seriamente, perché ci hai cliccato sopra? Te lo dico io perché! Nel 93,14% dei casi sei un mio fan! Oppure nel restante 6,86% sei solo un tipo che... che bova in giro a cliccare video perché... non so, si annoia. Beh, nel caso fossero i miei fans probabilmente sarete incappati in una situazione del genere! Oh mio Dio! Quanto cazzo da figo! Lo speciale 100 iscritti di Marco GZ! Aspetta che me lo vado a rivedere! What? Se dove è finito Marco l'hai tolto ma che cazzo ma... Beh, il fatto è che il video presenta come i due precedenti una traccia audio di proprietà della Disney! E quindi YouTube si è avventato su di me salvaggiamente manco l'avessi messo in culo a pippo! Ma siccome non ho attivato la monetizzazione YouTube non mi ha rimosso i video ma li ha semplicemente censurati su tablet e cellulari! Quindi orsù se volete vedere quei video accendetevi quel vecchio pc polveroso che vi ritrovate e guardateveli da lì! Perché non ho la minima intenzione di modificarli? Perché ho fatto un video per dire sta cosa? Beh, avrei potuto scriverlo nelle descrizioni dei suddetti video in effetti! Perché naturalmente tutto il popolo del tubo legge le descrizioni! Ha 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 ah Ha 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 Ah è per tutti quelli che mi chiedono Quando fai il nuovo video? Quando fai il nuovo video? Quando fai il nuovo Quando cazzo voglio io Quindi non preoccupatevi i miei discepoli Nuovi video sono all'orizzonte Abbiate solo un cicimino di pazienza Perché sono stra impegnatissimo Di roba super importante da fare non fate domande